No vabbè, te dico, spacchettamo, aprimote tutto, perché ragazzi, qua veramente stasettimana C'è sta roba da spacchettare, rotta di collo, fagallo, sei pronto? Questo è il tuo account, me lo hai chiesto tu di fare questo video Di conseguenza, CES 2019, agenti della UEFA Champions League, diamo il via alla sigla e vediamo chi pescherai Se sarai spulato, mancazzo, com'è una bestia, manna va, vai Non ce la faccio a fare, fa callo, non ce la faccio a fare niente, ciao No, infatti fa troppo, troppo callo No, rifammo, fa schifo Prendi il tuo controller, ragazzi, pool da collezione, Flamengo Club Selection C'hai 300 monete MyClub, quindi facciamoci prima i pool e poi tiriamo fuori gli argentini, quelli un po' più spisellanti Esattamente, voglio vedere se mi dice bene come ti ha detto a te Vai, c'hai 4 spacchettate da fare, sono 3, 6, 9, 12 giocatori in totale 12 giocatori, bene 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 Sbaga subito con GP Oddio, confermo Mamma mia, ma guarda che gli capita subito il pallone nero Sbrocco e smadonno, perché poi me li mette contro nella sfida MyClub Anzi, se la volete tanti, mi piace su questo video Attenzione che gioca in Spagna tanto per non lasciare No, in tempo intanto a niente Attenzione che... GIOCA IN SPAGNA IN PARTIERE Chi è? È PURTOI No, è che è un black Possibile con black Possibile con black Mi serviva come il pane Mamma mia Sì, ma mettine ste c***o te faccio Perché se capisci il c***o Non c'ho tempo Ma tu te sta, rende conto che questa è la prima spacchettata Ho trovato black 89, uno dei portieri più forti del gioco Mamma mia Mamma mia, ma quanto mi serviva Chi forte di Allison poi tra l'altro Ma quanto mi serviva Non è molto contento comunque SIGLIO RAMOS SIGLIO RAMOS SIGLIO RAMOS Mamma mia, doppio nero Mamma mia Cominciamo Ma col botto proprio Mamma mia Aggiungi a me in prima i grab Ma li mortacci 89, 89 E per il 84 che mi fa la secondo portiere? Cioè io mi sto sistemato alla difesa Ma io A me già mi era capitata una cosa del genere An alive Ma comunque mi era capitato L'89, l'87 Ma a questo due 89 gli sono capitati Fa il callo della madonna Vai avanti Ma sta Ne sto a scalla proprio Pagagogi Mortacci tu Avanti E Spagna, E Spagna E Spagna davvero Proprio Non ho avvisato Ti inventa niente E' Inghilterra A mezz'ora Inghilterra Gioca in inglese Gioca in inghilterra E' OCCA Ma quanto che c***o c'hai? Ma vieni Ma vieni Io non ci posso crede Ma vieni Ma non te fai Ma vieni Ma non ti fai schifo Ma se schiaccio E ce ne sanno altro Te meno Te lo ci ti arriva Una pizza Dietro la capoccia Questo lo desideravo Ma non sai quanto E' lo so E' torna a Roma ma li mortacci tua che li morta però c'è sta conto che è 84 quindi quasi nero ma li mortacci toglia e rubi che pescate ragazzi questo ha fatto un macello io vi ho chiederei qua il video non lo so io vai guarda tu che c***o ha fatto questo oggi ho fatto un macello io non c'ho parole fatte pure che ne so Francia ah no ce l'hai Neymar ancora Inghilterra ragazzi attenzione non può essere ancora pallone nero perchè è te meno non può essere ma questo è Aguero non è Aguero è un difensore oddio è un domenico di pesa oddio è ancora nero io non ce posso credere oddio ma che c***o stai a fare stasera ma che c***o ma non è possibile oddio oddio aspetta fa troppo c***o ma schiaccia c***o beh che poi ce ne sta un altro nero non è molto contento no infatti ho vedo un po' di dubbante no Lozano hai preso Lozano Yukcho ma che c***o di c***o questo mamma mia ma t'hanno bugato il MyClub e mi devono fare del c***o a me che poi giochiamo contro il MyClub perchè c'hai più forti oh ce ne ho ancora un altro eh vai facchetta ma li molto acido se fai 4 su 4 te meno te visto te botte te lo giuro no io ho fatto 4 su 3 dei pallori neri se vogliamo essere precisi ho fatto 4 su 3 e questo giochi spagna attenzione dai manca messi attenzione che giochi spagna ma non è possibile ma non è possibile ma sei c***o ma come c***o hai fatto oddio oddio tutti neri tutti tutti neri schiaccia non ce lo posso fare e vediamo se ce ne sta un'altra appresso ma non ce sta un'altra appresso sei una vergogna vergognosa oddio tu ammata vai a matar li mortacci tua oddio vai 5 palloni neri su 4 pescate allora cioè ti sta rende conto la gente speciale credo che te voglia fa vabbè il gold lo possiamo lasciar perdere vedi qual è quello con tutti i palloni neri praticamente vedi allora vediamo è questo è questo vai pesca altri 3 palloni neri fammi vedere solo questo 33 no non mi interessa proviamo la fortuna voglio 3 su 3 giocatori uguali così lo scambio e così le pigli e lo prendo l'altro nero è certo ma oddio ma che vergogna ma che vergogna ma stasera ma che è sto callo no è impressionante ovviamente è nero vabbè qua non c'è stata a strillare e da urlare perché lo sapevamo lo sapevamo è un difensore si rodinei forse si è lui che non è male non ti ha detto male anzi 87 come terzino destro ma mi è capitata se altre due volte no sicuramente si vabbè se ti dice pure sto culo me ne vado io te lo posso te lo giuro me ne vado eh no vabbè chiedo troppo tre pizze dietro la capoccia già te toccano cioè chiedo veramente troppo incredibile che cosa hai pescato che cosa hai pescato con 100.000 gp mamma mia ho pescato il mondo con probabilità dei palloni nero bassissimi è ancora destro è ancora rodinei no è ancora dai come no non me pare lui fa le scivolate specurizza e lo direi siamo a due su tre attenzione attenzione che siamo a due su tre attenzione la tensione si sente qua io non ci posso credere siamo a due su tre io non ci posso credere siamo a due su tre vai vai attenzione ripacchiamo riconfermiamo attenzione me lo fanno apposta per farmi girare il cazzo attenzione ma me lo fanno apposta la konami lo sa attenzione non è lui non è lui meno male lascia la matta però che sporizza un po a noi Diego beh Diego ex juve non è male è 87 due su tre ci ho creduto eh però hai fatto una bella spacchettata lì penso io che faccia da stupratore mamma mia ma che c***o che ci hai avuto oddio ragazzi miei ma che ne pensate che sto spacchetta questo ha fatto un macello io non c'ho parole voi li fate pure un rod ci sto vai vai ci sto olevamo solo da mezzo che tanto non mi serva a niente il mone vai vai spidipin spidipiz spidipin è il livello 1 quindi pure che fosse no poi c'è probabilità di chiappar nero però è il 3% è perché prima gli pull quant'era la possibilità fammi capire non era 3% no era 3 e mezzo era ma che stai era bassa ecco hai preso l'oro è il portiere no non è il portiere che squadra è se capisci no non mi interessa Bartra non è male non è male 74 vabbè vabbè il livello bene beh non ti ha detto male mannaggia credo che dopo aver visto questo credo che il mio sculo precedente è stato battuto definitivamente annullato straannullato 25.000 gp a botta questo ha preso 5 palloni neri su 4 pacchetti no ma se usciva di lei per tre volte cioè potevamo veramente chiudere internet potevamo chiudere l'internetto ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti è stato più sculato lui adesso o io nell'ultimo spacchettamento o il penultimo non mi ricordo lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio ma soprattutto successo 2019 altri spacchettamenti a rotta di collo almeno 7.000 mi piace questo spacchettamento ne chiederei anche 10.000 ma veramente c'era i cappescatori impossibili fate voi cioè questo è veramente lo spacchettamento più sculato dei sempre seguiteci su Instagram e Telegram vi inviamo le feed che ultimamente il YouTube non manda e detto questo vuoi aggiungere qualcosa? commentate condividete iscrivetevi al canale sto a sudare sto a sudare ma guarda io non ce posso credere quello che ha fatto di come ovvi ne ho fatto a prossima perché mi rodo il culo non te ne posso vedere queste cose è una cosa assurda te li trovi muhammedino contro e li muotacci tua ciao